Un bimbo mi ha appena chiesto se si può bere l'acqua piovana, se ci si può lavare, se ci si può cucinare? Diciamo lavare sì, cucinare sì, bere no perché contiene sostanze nocive, per esempio i cosiddetti nitrati, solfati, che sono sostanze nocive per il nostro corpo e che sono immesse dall'atmosfera, dall'attività dell'uomo, e quindi voglio dire mai bere l'acqua piovana, perché l'acqua invece, quella sorgiva, non contiene queste sostanze, andate a leggere l'acqua sorgiva, cosa contiene? Contiene pochissimi nitrati, pochissimi sulfati, ma non tanti quanto l'acqua che deriva dalla pioca. La neve e la grandione invece si possono bere? E' la stessa cosa, perché anche il cristallo di neve si forma perché si è aggregato per una particella, per un polviscolo che in genere sono nitrati o solfati, quindi sostanze nocive per il nostro organismo. Va bene, grazie. Grazie a te Ely.